Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua orgasmi che sono qui a presentarvi l'ultimo episodio dei Potential Transfer di gennaio perché siamo quasi alla fine del mercato invernale, proprio alla fine, e quindi vi porto questo ultimo episodio speciale in cui non ci saranno solo 3 giocatori ma ce ne saranno in tutto 6. Ok, spero di non aver dimenticato nessuno trattando questi giocatori perché ovviamente negli ultimi giorni di mercato ci sono un sacco di trattative di cui parlare però probabilmente mi dimenticherò qualcosa. Quindi partiamo subito dalle due notizie ragazzi più clamorose che ci sono arrivate in questi ultimi giorni di mercato, in queste ultime ore diciamo. Anche se sono già uno confermato, l'altro quasi. Stiamo parlando dell'arrivo di Dumbia a Roma e questa è una notizia veramente clamorosa non tanto per il calcio reale, comunque sia Dumbia è un ottimissimo giocatore, quanto per il nostro foot, ma ne parleremo più nello specifico dopo. Quindi arriva Dumbia con, diciamo, pagato 16 milioni circa, dovrebbero essere 14,4 milioni più 1,50 di bonus, 1,500 di bonus, quindi quasi 16 milioni e arriva un ottimissimo giocatore alla Roma per sostituire destro un attaccante velocissimo con una media goal pazzesca sia in Russia che in Europa. Quindi io penso che sia un grande acquisto. Andiamo con il secondo acquisto sempre della Roma, stiamo parlando di Victory Barbo. In realtà adesso, in questo momento, quando sto registrando, non è stato ancora confermato nulla, però si parla di un prestito, almeno la Roma ha offerto un prestito più un obbligo di riscatto fissato a 10, mentre il Cagliari ne chiede 16. E quindi, vabbè, poi si vedrà in queste ultime ore di mercato cosa succederà. Se arrivasse, e io penso che poi arriverà, Ibarbo a Roma, questo cosa comporta? Comporta che non solo avremo in Serie A Dumbia e Ibarbo, ma saranno nella stessa squadra, quindi avranno Link Verde. Quindi io non oso immaginare cosa succederà a Foot da ora in poi, perché sicuramente, ecco, preparatevi, perché al 90% delle volte troverete squadre con Dumbia e Ibarbo in attacco, il che farà veramente paura. Io sono veramente affranto da questa notizia, ma comunque una squadra con questa coppia sicuramente ve la porterò, giusto per farvi vedere un po' che ibride stavo pensando io. Ma comunque questo è un altro discorso. Poi, andiamo a Raffica parlando degli ultimi giocatori, gli ultimi quattro giocatori, che ovviamente vi faccio vedere un po' velocemente. Stiamo parlando di Matri, il primo giocatore che potrebbe tornare alla Juventus. Il Genoa ha comunicato che Matri andrà alla Juventus, anche se la Juve in realtà non ha confermato nulla, perché comunque c'è anche la pista Osvaldo ancora in piedi, quindi non si sa poi alla fine se arriverà o Matri o Osvaldo. In ogni caso sarebbe un ritorno per Matri alla Juventus, anche se sarà tipo la ventesima scelta come attaccante, però vabbè. Poi, un altro giocatore che viene in Serie A è un po' Q dello Standard Liegi, che potrebbe andare a sostituire Ibarbo, nel caso ovviamente partisse per Roma. Sponda giallorossa, un po' Q. Quest'anno purtroppo non è una carta fortissima, è stato downgradato molto alla sua velocità, altrimenti sarebbe veramente un'ottima carta, ma lui comunque è un ottimo giocatore in real life e quindi penso possa fare bene, ovviamente non è Ibarbo, però si vedrà se arriverà ovviamente al Cagliari, cosa combinerà. Poi, un altro giocatore che potrebbe essere clamoroso, un ritorno clamoroso, è Cassano all'Inter. Sappiamo che Cassano in questi ultimi giorni ha rescisso il contratto che lo legava al Parma, molto chiacchierato comunque questa rescissione consensuale comunque del contratto, ma questa è un'altra storia. Potrebbe tornare all'Inter, che secondo me è quello che un po' forse potrebbe servire all'Inter, un trequartista di qualità, una seconda punta di qualità, che ha grande visione di gioco e che potrebbe mettere un po' più di fantasia nelle azioni dell'Inter. Sarebbe ovviamente un ritorno clamoroso, visto che si era lasciato Cassano con l'Inter un po' amaramente, forse c'era di mezzo anche Mazzari, ma comunque sia con Mancini potrebbe tornare. Ovviamente le porte non sono chiuse, si vedrà in queste ultime ore cosa succederà, anche se potrebbe, volendo anche andare al Bari, che sarebbe, per chiudere la sua carriera, sarebbe anche molto carino. E infine parliamo di Luca Antonelli, che si trasferisce dal Genoa al Milan, anche questo è un ritorno di Antonelli al Milan, che andrà ovviamente a sostituire Desciglio, infortunato, e Armero, che partirà come terzino-sinistro. Quindi io penso che verrà anche cambiato il suo ruolo da esterno di sinistra a terzino-sinistro. E quindi il mercato penso si concluderà così, poi ovviamente ci saranno comunque gli ultimi botti, diciamo, del mercato, della fine del mercato. Ovviamente teniamo sempre d'occhio il Condor-Galliani, che non si sa mai cosa ci combina. E niente ragazzi, questo era l'ultimo episodio, ed era l'ultimo episodio della stagione, perché questa serie comunque riprenderà all'inizio del calcio-mercato estivo, cioè, penso, luglio. Quindi appuntamento a luglio, con nuova serie di Potential Transfer. Sono veramente contento che questa serie vi sia piaciuta, l'avete gradita, e soprattutto avete interagito tanto con me. Quindi io vi invito, come sempre, a lasciare un bel like. Infinity Like ci sarà il prossimo episodio, non il prossimo episodio di questo, il prossimo video. Iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Vi ringrazio per aver seguito questa serie. Bella ragazzi!